Dal territorio un appello che non arriva soltanto alle istituzioni locali, ma si alza e va proprio al Ministero. Quindi in quest'ottica è proprio stato organizzato il CITIN, la manifestazione del 5 dicembre. Sì, è stata decisa in assemblea dai lavoratori. Noi saremo tutti lì, speriamo che siamo tanti, perché ci devono dare risposte chiare sul futuro di Civitavecchia. Perché va bene la fuoriuscita del carbone, va bene tutto, però alternative per i 300 lavoratori che lavorano lì adesso, bisogna che ci fanno sapere al più presto quello che succede qui. Anche perché la crisi già si è aperta. Ci sono già aziende che hanno chiesto cassa integrazione, hanno chiesto ammortizzatori sociali, addirittura qualcuno ha chiesto anche licenziamenti. Allora non è che possiamo aspettare più di tanto, perché il tempo stringe. Noi abbiamo tutti i giorni le aziende che ci chiamano e ci dicono che per la riduzione di produzione del carbone è calata anche la manutenzione e ci sono degli esuberi. Già da adesso, figuriamoci, tra un po' quando poi la centrale a carbone chiude. Quindi cosa chiedete al Ministero? Chiediamo un progetto alternativo, un progetto alternativo per le 300 persone che lavorano nel carbone a Cidravecchia. Tutto qui, chiediamo solo quello, un progetto alternativo immediato e conoscere il futuro di questa gente, perché sta perdendo il lavoro. Grazie. 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 Grazie.